Ed oggi vi porto la linea completa delle schede grafiche RTX 3000. Peccato che non potremmo comprarne nessuna. Oddio, forse solo la 3050. Ciao belli e bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e prima di cominciare a guardare nel dettaglio le notizie vi ricordo di andare a fare un pochettino un salto nella descrizione di sotto perché ci sono i miei link affiliato, ci sono tutti i link dei miei social, c'è il canale Discord, il canale Twitch c'è la mia pagina Instagram, andate comunque lì e se volete fatevi un giro venite a sostenere il canale che a me fa sempre tanto tanto piacere stare più a contatto con tutta la mia community. Detto ciò, come ho detto, scusate il gioco di parole, all'inizio c'è stata la conferma della linea completa delle schede grafiche RTX 3000. Questa conferma l'abbiamo avuta da un software molto famoso nel mondo dei benchmark, e cioè AIDA64. Infatti, nei driver beta della versione 6.35523 di AIDA64 Extreme, rilasciato all'11 dicembre 2020, ad un certo punto appaiono delle schede grafiche che direte, cavolo, ma non ci sono ancora sul mercato. Ma i produttori di software hanno comunque notizie certe di queste cose prima che la scheda grafica venga rilasciata, così che il loro programma sia già ottimizzato, specialmente per Nvidia. Vediamo infatti qui nella lista che a un certo punto appare GPU Information for Nvidia GeForce RTX 3050. E come parlo bene l'inglese, eh? Ok? Comunque, la RTX 3050. Oltre alla 3050 possiamo vedere che comunque ci sono altri modelli, tra cui la 3060 normale, una 3060 mobile, una 3070 mobile, mobile da 16GB e una mobile Max-Q. Anche se, come viene detto nell'articolo, crediamo che sia basato su un campione di ingegneristica, cioè nel senso un chip grafico che non sarà realmente rilasciato, è solamente per fare dei test, e poi vediamo una RTX 3080 Ti. Allora, 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 queste sono notizie molto molto interessanti, perché a quanto pare la release di queste nuove schede, nuove schede grafiche, diciamo, queste schede grafiche di fascia più bassa, è effettivamente ufficiale. Quindi ci saranno molte variabili delle fasce più basse delle schede grafiche RTX 3000. E quindi è confermata ancora una volta la RTX 3080 Ti. Come ho detto già tante volte, io non ho trattato fino, credo, al video scorso, o due video fa, l'argomento, perché non c'erano dei leak sicuri riguardo questa cosa. Adesso che ci sono, beh, cominciamo a parlarne. La cosa che più mi dispiace è che non potremo acquistarle, perché, come sappiamo, quest'anno il mining sta tornando in auge, le schede grafiche vanno a ruba. Voi perché alcune aziende le stiano vendendo direttamente ai miners attraverso corsie preferenziali. Voi perché altre aziende, in maniera molto più intelligente, subdola, stanno dicendo, guardate, le memorie delle schede grafiche possono essere utilizzate di più dal processore tramite il resizable bar. cose, cose complottistiche, che comunque si stanno rivelando vere. Quindi, diciamo, io mi limito soltanto a farvi vedere l'intera line-up delle schede grafiche da parte di Nvidia di quest'anno. Ed eccola qui. Abbiamo, in pratica, la 3090 in testa a tutte quante, ovviamente, con tutte le sue caratteristiche. La 3080 Ti, che si differenzia dalla 3090, a parte per una variabile del GA102, che è il chip grafico medesimo da cui sono ricavate, ha semplicemente 4GB di memoria RAM in meno, con un bus, una banda portante un po' più piccola, a 760GB al secondo, che non è affatto poco. Poi c'è la 3080, che è già uscita, la conosciamo, una 3070 Ti, o 3070 da 16GB, che, no, non è quella lì, una 3070 Ti è proprio una cosa totalmente diversa da quella che era stata liccata qualche tempo fa, che avrà 10GB di memoria RAM, quindi molto molto simile alla 3080, tranne che, per un numero di CUDA Core più basso, ovviamente, bandwidth e prezzo di lancio devono essere ancora confermati, non ne abbiamo ancora certezza. C'è poi la nostra 3070, la 3060 Ti che è stata lanciata, e abbiamo due variabili della 3060, una 12GB e una 6GB, che effettivamente corrispondono ai leak che abbiamo visto qualche tempo fa, quindi è ancora possibile che ci sia una 3060 da 12GB, che si differenzia dalla 3060 Ti per circa 1000 CUDA Core in meno, fondamentalmente, e alla base c'è la 3050 con 4GB di RAM, un numero di CUDA Core molto molto piccolo, e come chip grafico il GA107, che, a quanto ho capito, dovrebbe essere un residuo, se vogliamo essere cattivi, o comunque un vecchio chip della generazione Ampere, cioè della precedente, che è stato ottimizzato per questa generazione. Allora, io rimango effettivamente molto molto sorpreso nel vedere subito tutte queste schede grafiche. Abbiamo ricevuto varie conferme, una delle ultime appunto è AIDA64, e AIDA64 è uno dei software che più viene utilizzato su internet per il benchmark delle CPU, delle temperature, delle frequenze, eccetera, eccetera. Quindi, sì, AMD quest'anno avrà vita molto molto difficile, poiché, lo sappiamo ragazzi, le schede grafiche AMD non sono così performanti come quelle di Nvidia, possono avere un miglior rapporto qualità-prezzo sicuramente, ma vi faccio l'esempio della 3080 e della 6800 XT. Tutto ciò che manca alla 6800 XT dal punto di vista software, la 3080 ce l'ha. E pagare quei 50 euro in più MSRP, magari fossero quei 50 euro in più, è effettivamente un prezzo che io personalmente sono disposto a pagare, io che faccio content creation. Se voi volete soltanto giocare, beh, c'è sempre da considerare il fattore ray tracing, quanto sia importante per voi sicuramente. Ad ogni modo, Nvidia sta cercando di saturare completamente tutte le fasce di prezzo al di sotto della 3060 Ti, in modo tale che AMD si trovi decisamente spiazzata nell'andare a prezzare correttamente le proprie schede grafiche e quindi ci sarà davvero una bella sfida. Tutte queste schede grafiche si dice che saranno rilasciate a partire da gennaio. Secondo me dai modelli più bassi, la 3080 Ti la vedremo più avanti perché non c'è bisogno da parte di Nvidia di rilasciare una scheda grafica più potente della 3080, ma meno potente della 3090 perché fondamentalmente la 6800 XT e la 6900 XT non la vanno a impensierire più di tanto. Ad ogni modo, la cosa più triste, secondo me, è che non potremo comprare queste schede grafiche, a parte la 3050, perché tutte quante hanno più di 4 GB di memoria RAM e sappiamo che più RAM ha una scheda grafica, più è appetibile per i miners. Ragazzi, io che vi devo dire? Vi ringrazio per aver seguito il video. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto DG. Ditemi la vostra e ci vediamo ad un prossimo video, sempre qui sul punto DG, sempre qui col vostro G. Ciao!